Ben trovati all'aggiornamento con il TGD3B, andiamo a vedere la situazione in America, l'uragano Elene che sta interessando Florida e Georgia con piogge torrenziali, questo è satellite, guardate tutto il vortice, diciamo ha raggiunto la Florida con categoria 4, venti superiori ai 200-250 km orari e piogge torrenziali, sabato sarà ormai nel Tennessee declassato a tempesta tropicale, ma intanto nelle prossime ore venti fortissimi, le immagini che ci arrivano dalla Florida, venti raffiche 250 km orari, piogge torrenziali tutto allagato, ma non solo perché sulla costa statunitense, guardate come si è alzato il mare, è stato registrato anche un picco di marea massima fino a 6 metri, quindi l'acqua ha raggiunto addirittura i secondi piani delle case. Tanta devastazione nelle prossime ore, poi appunto da domenica migliorerà un po' dappertutto il tempo. Andiamo a vedere invece la situazione sull'Italia, con questa coda della perturbazione sul nord-est e la Toscana, piogge temporali, al sud invece resiste l'alta pressione. Guardate la colata di aria fredda direttamente dal mar di Norvegia che ci raggiungerà nel weekend con un abbassamento delle temperature. Difatti sabato dei temporali sul nord-est nel pomeriggio, anche al centro-sud rapidi rovesci e temporali, venti che piegano tutti di maestrale grecale e poi domenica invece è una bella giornata di sole ma con temperature che rimarranno contenute in flessione non tanto sulla parte tirrenica con valori di 25-26 gradi ma sul lato adriatico e al nord a fatica raggiungeremo i 20-21 gradi, poi minime anche a una cifra. Maggiori dettagli scaricando l'app di Trevi Meteo.